Via della missione 24 agosto 1912, siamo a via della missione, ma chi siamo? La delegazione del Quorum Zero. Esattamente nelle persone di Lorenzo, Gianni, Anna da Milano, Fabio, Tommaso e Alessandro da Roma, Tommaso da Roma, Fabio da Vicenza, Anna da Milano, Gianni da Trento, Lorenzo da Vicenza. E questi sono i bambini, ovvero le firme che sono state raccolte per quello che è l'iniziativa di legge popolare Quorum Zero, più democrazia. Non è stata appoggiata da nessun partito politico tradizionale e poche persone di tutta Italia hanno lavorato tanto questi mesi. Abbiamo scoperto che i cittadini quando i formati firmano, come vedete con pochissimi mezzi, e tanta buona volontà, certo, però dobbiamo ringraziare ovviamente tutti quelli che hanno firmato. E molto convinti a questa nostra, perché non è più nostra, è di quelli che firmano. E di 50... 52.600 però, questi sono solo quelli certificati. Tutte le firme sono... Tutti i certificati che non sono arrivati a causa ferie, inghippi, eccetera, sarebbero... Siamo sulle 54.000, quindi più o meno. E questi fogli qua? Questi fogli provengono dalla delegazione di Roma che ha portato le ultime firme e che vanno in scatolate, consegnate e andranno a fare più peso ancora di quello che c'è. Ah, ma allora a Roma qualcosa è stato fatto. Sì, diciamo così che è stato fatto qualcosa. Si poteva fare forse di più. Sì, sì. Ma forse no, non lo so. Si poteva fare di più. Forse qualche posto è stato sbagliato nella raccolta, magari... Non so. La prossima volta faremo meglio. Però chiaramente nessuno può dire niente a nessuno, perché se ci sono tutte queste firme qua è perché tutti hanno collaborato con le loro possibilità. E diciamo che chi più chi meno, dall'Alto Adige fino alla Sicilia sono arrivate firme da tutte le regioni. Per cui siamo soddisfatti di aver raggiunto questo risultato e adesso da dieci minuti le consegniamo alla Camera dei Deputati. Noi stiamo cercando anche di fare una diretta streaming, però non so, vedo l'orezzo, non ho fatto. Due minuti partiamo. Due minuti, per permettere al nostro del gruppo Facebook e a chiunque sia collegato. Questa è una diretta postuma invece. Verrà meglio di niente. Grazie a tutti!